Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Aquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2023. Wow! Il mondo, amici dell'Aquario, si avvicina un momento, un periodo di compimento, di conclusione di cicli, di raggiungimento di risultati. Quando c'è il mondo è proprio una carta di fine di un ciclo e ovviamente poi ne inizia un altro. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come vi ricordo sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo e se non risuona se nulla o voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare o venere. Nella descrizione del video poi trovate il link ad una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, vi spiega le linee di tempo, quanto influenza la decada di nascita. Insomma, vi consiglio di ascoltare il video perché è molto interessante. Inoltre, sempre nella descrizione troverete il mio indirizzo email, lo vedete anche qui e poi ci sono altri video interessanti. Insomma, vi consiglio di sbirciare. Bene, andiamo a vedere per questa seconda parte di giugno i movimenti per le relazioni, le relazioni, gli affetti, le amicizie, le relazioni in generale, ragazzi. Allora, partiamo con un asso di spade. Un asso di spade normalmente è un inizio, giustamente abbiamo il mondo, può anche essere che si incrocino questo inizio e questa fine. Wow, abbiamo un 6 di bastoni, 8 di denari, appeso, quante di denari, 9 di denari e 4 di denari. Allora, questo asso di spade, come vi dicevo, è una carta che fa riferimento a un inizio. Normalmente è una verità che viene a galla quando c'è l'asso di spade, come se ci fosse o qualcuno ha comunicato una notizia, una decisione, una verità, semplicemente, o voi è come se aveste messo in ordine i pensieri e preso una decisione, fatto una scelta. È più una decisione da un punto di vista mentale che non da un punto di vista di fare un'azione. Lo andiamo poi a vedere meglio con i miniterocchi dopo. Abbiamo poi questo 6 di bastoni, ragazzi, e devo dire che 6 di bastoni è una carta di successi, di riconoscimenti, è una carta che parla di qualcuno che ha raggiunto un risultato e parla di riconoscimenti proprio pubblici, di riconoscimenti da parte delle persone che vi sono intorno. Il lotto di denari ha a che fare con una questione lavorativa, potrebbe essere, o una questione dove c'è da lavorare con costanza, lavorare, sapete, il poco ma sempre, tutti i giorni. La carta dell'appeso, come l'idea è che qui voglia consigliarvi di iniziare a vedere le cose un po' da un altro punto di vista, senza essere troppo flessibili, però iniziare a vedere le cose da altre prospettive vi può far, diciamo, capire le cose diversamente. Vi può far vedere altre possibilità che magari prima non avevate considerato. Terminiamo poi appunto con il fante di denari, il 9 di denari, il 4 di denari, tutti i denari, devo dire, li andiamo a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi. Caso vuole che si è girato di nuovo il mondo? va bene, andiamo a vedere l'asso di spade. Eremite al contrario e 3 di bastoni. Come se qualcuno avesse preso una decisione di non voler più rimanere nel posto dove si è o nella situazione dove si è, come se ci fosse una sorta di chiarezza mentale. la carta dell'eremite è sempre una carta che invita all'introspezione, però tenete presente che è un'introspezione solitaria, come se qualcuno qui avesse preso la decisione di intraprendere un viaggio in solitaria. Tenete presente che il 3 di bastoni è sempre una carta che parla di espansione. sanzione. Andiamo con il 6 di bastoni. Abbiamo una regina di denari al contrario e un 9 di coppe, qui abbiamo un 9 di denari. Allora, per qualcuno la regina di denari potrebbe fare riferimento alla madre o magari alla persona di interesse, adesso poi ognuno lo applichi alla propria realtà, ma c'è una sorta di soddisfazione personale nel non doversi più occupare di qualcosa. Probabilmente qualcuno si è allontanato, come vi dicevo, o sta pensando di dare un taglio, di allontanarsi da una situazione o da una relazione o da un posto anche potrebbe essere. Ed è come se nella terza settimana di giugno si raggiungesse in qualche modo quel tipo di risultato. C'è qualcosa a livello concreto che cambia. Andiamo a vedere l'otto di denari. Due di spade al contrario, fante di spade e sette di bastoni. Come se ci fosse la necessità di lasciare andare un certo tipo di controllo costante, quotidiano, giornaliero. Può essere un controllo mentale, ragazzi. Vi ricordo che partivamo con un asso di spade, ma può anche essere un controllo di tipo pratico, come vi dicevo prima. Come se ci fosse una scelta, un dubbio, una direzione da prendere e si è un po' stanchi in realtà, in realtà, di continuare a occuparsi di questo lavoro, di questa persona, di questa questione. Si vorrebbe lasciare un po' andare la presa, secondo me. andiamo a vedere l'appeso. La forza è un otto di bastoni al contrario. Come se ci vi mancasse il coraggio di fare un movimento di tipo fisico. Diciamo che quello mentale potenzialmente è già stato fatto. Adesso bisogna mettere in pratica quello che si è metabolizzato a livello mentale. Vi dico, c'è qualcosa che cambia a livello pratico, a livello della quotidianità nella terza settimana di giugno? Perché comunque vi ricordo che avete un 6 di bastoni che è una carta di successo e un 9 di coppe che è una carta che parla di appagamento emotivo, di sogno compiuto molte volte. Però appunto, avendo la regina di denaro al contrario e il 7 di bastoni al contrario, che spiega l'otto di pentacoli, è come se ci fosse qualche cosa nel quotidiano, nella materialità che avete bisogno di lasciare andare. Andiamo a vedere il fante di denari, perché o è una persona nuova, questo fante di denari, che potrebbe entrare nella vostra vita, una persona giovanile, gioviale, o potrebbe rappresentare a livello di energia, un nuovo tipo di inizio. Guardate, si è raffacciato prima, si è affacciato di nuovo anche adesso. Allora abbiamo una 10 di pentacoli al contrario e la carta del mondo. Ho come la sensazione che, se fosse per esempio un cambio lavorativo, questo cambio della quotidianità, vi dico che magari non è semplice vedere le cose da un altro punto di vista, perché in effetti qui abbiamo la carta dell'appeso, è un po' come se ci fosse una sorta di mancanza di volontà, più che di blocco in sé, però nella quarta settimana di giugno le cose io direi che cambiano. Magari non avete quella certezza e quella sicurezza materiale su cui state già lavorando in questa zona della lettura, ma arriva comunque un risultato, arriva un compimento per qualcuno, il mondo parla di un viaggio, di un trasferimento, magari qui lo stavate pensando, lo stavate organizzando, non avete voglia di fare questo viaggio da soli, magari proprio questo viaggio che state organizzando, che vi sta drenando, ipotesi, e comunque arriva il mondo, arriva questo viaggio, arriva lo spostamento, arriva il compimento, magari non è per adesso diciamo molto concreto, nel senso che comunque questo 10 di denari è al contrario, però comunque abbiamo il mondo ragazzi. Andiamo a vedere il 9 di denari. Re di coppe, 10 di bastoni, la stella e 5 di bastoni. Sì, io credo che una volta che ci si lascia indietro le questioni pratiche, le dispute, le competizioni, si raggiunge comunque quello che è un appagamento da un punto di vista dell'amor proprio, c'è un appagamento interno, qui avevamo anche il 9 di coppe, è come se si arrivasse ad un certo tipo di maturità, sia che sia vostra interna, nel caso non abbiate nessuno, sia che sia all'interno della coppia, o proprio come relazione, perché il re di coppe parla proprio di un sentimento maturo. Se per esempio fosse una stesa di relazione e qui vi sentite in un certo modo, cioè state bene magari con la persona, ma vi sembra di dovervi occupare di tutto voi, vedetela da un altro punto di vista, per esempio che potete fare come volete, nel senso se siete voi che organizzate, siete voi che gestite, ecco, e quindi non è poi così necessario chiedere all'altro se ha voglio di fare questo piuttosto che quell'altro durante la vacanza. L'ipotesi della vacanza appunto è un esempio, andiamo a vedere il 4 di denari, potrebbe essere una situazione con i bambini, potrebbe essere una situazione, non lo so, per quello che riguarda un evento, se la semplice gestione della casa, 4 di denari è spiegato da un 5 di denari e da un mago. Sì ragazzi, qui ho come la sensazione che sarà talmente bello alla fine di giugno, questo nuovo inizio, questa nuova persona, l'appagamento, l'amor proprio, il raggiungimento dei risultati, la maturità emotiva, che probabilmente ci sarà un po' di paura di perdere quanto, tra virgolette, guadagnato e quindi vi terrete piuttosto stretto la vostra zona di comfort, direi, sia che sia da un punto di vista emotivo, sia che sia da un punto di vista monetario, materiale. Tenete presente che il 9 di pentacoli comunque è una carta di forte indipendenza caratteriale, monetaria, vitale proprio, cioè come è una persona che non ha bisogno, diciamo così, di nessun altro, riesce a darsi le coccole di cui ha bisogno, è un po' come se nella seconda parte di giugno riusciste a lasciarvi indietro tutti i pesi che arrivano dalla prima parte del mese. Ripeto, potrebbe esserci una persona nuova, tra l'altro le previsioni dei single sono già online, quindi se volete le trovate nella playlist e potete integrare quelle letture con questa. andiamo a vedere un oracolo adesso. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia, perché potenzialmente c'è questo sviluppo a livello emotivo all'interno di una relazione, qui io non parlo ancora di coppia vera e propria, però potrebbe essere una persona magari che non conoscete da molto. Guardate, vero amore, questo è l'amore della tua vita. Wow, ma che bello! Per molte persone la persona che incontrerete sarà una persona che ha già avuto una famiglia e che si sta separando. Questa ve la dico così perché mi è arrivata adesso. Amici dell'acquario, potrebbe anche avere figli, vi dirò. Io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Se volete sostenere il canale potete anche fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che per l'abbonamento ci sono due fasce di prezzo. La prima fascia, che è quella più bassa, è semplicemente per sostenere il canale. La seconda fascia di prezzo, che è quella più alta, è per accedere ai video di crescita personale e di crescita spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!